che grinte però ragazzi testosterone con questo test cosa è successo francesco dopo le considerazioni finali che siamo già lunghissimi come succede che faina lo fa diventare questa cosa qua la sua ragione di vita perché ci rimane male plot twist e inizia e inizia a chiamarmi stamattina il messaggio arriva a me tramite la fucina che lo metto su un gruppo all'interno di questo gruppo ci sono damiano luca giulia manfredi scoppia in caso all'interno del gruppo e damiano si paranoia gli dico vai tranquillo ne parliamo oggi live ma lui non ci sta e chiama francesco vitale i due hanno un colloquio di a quanto ci è dato sapere dai nostri inquirenti 25 minuti al che francesco vitale rimuove il post e ne scrive uno nuovo che ha tutto un altro sapore più corte vediamolo prego giulia cari ragazzi ho preso una cantonata assurda ho fatto veramente una figuraccia ed ho qui la totale umiltà di ammetterlo di prendermi le mie colpe oltre che le mie responsabilità ho totalmente sbagliato ho ricevuto una chiamata da un numero privato era damiano che davvero signore con dolcezza bontà e tranquillità le cose molto belle ma studiata andrea se vai avanti comunque ma perché col privato si conferma la nuova umiltà di non dare il numero secondo cellulare non si sa qual è come il secondo no col privato prego bella chiamata col privato vabbè pure quello può essere vero io sono tre qui insomma e quello c'è niente di strano vedi la classica vittima che tutela il carnefice comunque io sono stata ad ascoltare e mi sono anche messo a piangere addirittura un po dalla commozione senti un po dall'imbarazzo per quello diceva addirittura io perché l'ha messo l'imbarazzo un po da tutta la situazione si è comportato da vero signore io a parti inverse probabilmente non lo avrei fatto ed oggi mi ha dato una lezione di vita davvero cristiano col doppio col doppio senso la mia presenza e che mi vuole bene e non porta rancore mi ha anche invitato a casa sua purtroppo a volte siamo pervasi da demoni interiori da pippe mentali per cose non dette io lo scusa ma i soldi chiamano alex s lazio ha regalato altri 10 abbonamenti e quindi vola il primo posto grazie mille alex e forza lazio fan di meccanato in chat ragazzi non abbiamo aggiunto il gol basta vitale hai rotto vitale di no no ragazzi aspettate aspettava va a questo sono antipatico aspetta 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 no aspetta mi fai parlare mi fai parlare mi fa parlare perché mi fai parlare un attimo 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 questo c'è zitto zitto è andato via quello che è successo questo personaggio quando io praticamente ho criticato messi per gli atteggiamenti mondiali atteggiare questi più gravi sono ti ha dato che ha massacrato di insulti sul mio profilo di instagram l'ho dovuto bloccare io per avergli detto hai il nome è un cognome di un codice fiscale cioè tu mi insulti sei razzista ce l'hai con gli albanesi no caro mio io non ce l'ho con gli albanesi perché io non sono una persona razzista tant'è che erri che presenzia qui in questo canale una persona per bene quindi non mi dare dei razzisti per me questa cosa non funziona non funziona anch'io amici albanesi ma anche le fighe albanesi allora no faccia rientrare per favore no l'ho visto francesco non so se può si sta trasformando come la protagonista del mondo di patti quando si toglie le treccine gli occhiali e l'apparecchio ah vitale non so se posso farlo entrare perché lui mi sembra di avere un atteggiamento come dire vorrei chiarire no allora se parliamo uno alla volta fallo rientrare perché è uno che insulta e basta allora io la prego di non insultare e la faccio rientrare lui se non erro si chiama Xo è il giusto? esatto esatto ok allora mi ricordo allora prego prego io sono entrato e volevo parlare te invece subito volevi spiegare a parte che ti ho dato solo un insulto uno cioè non so se non lo dico perché magari c'è vi bloccano il canale o chissà che cosa esatto lei non lo dica comunque è dubbio è vero un insulto e l'ho insultato è vero ma perché c'è scrivervi delle cose senza senso ma ti giuro ogni tanto c'è io non so quanti anni hai ma a vederti scrivere anche il post qua sembra che c'hai vent'anni cazzo ma quanti anni hai? ma cazzo il primo post è stato imbarazzante io per carità io non sono un estimatore di Damiano ogni tanto la penso come lui altre volte no però il primo post è stato proprio ridicolo proprio ridicolo ridicolo il suo primo post e non bastano le scuse cioè lui è stato un signore anche ad accettare le tue scuse perché io non le avrei accettate ma che posto è? no aspetta uno alla volta fare questo fare questo uno alla volta però no lui è stato un signore ad accettare le mie scuse però poi i fatti devono corrispondere alla realtà intanto il mi segui non mi ha ammesso io a casa sua non ci sono andato quindi poi i fatti devono anche corrispondere alla realtà no Bergoli scusa eh abbiamo quanto parlare allora chiariamo intanto questo prima ma comunque del misericordio di Damiano non me ne frega niente c'è l'ho di Stefan F che ha vinto una cento di video ragazzi quindi cazzo mi ne frega cioè quindi non è quello il punto il punto è che allora poi noi siamo protagonisti di questa trasmissione mi dà fastidio che poi ci sono questi haters da strapazzo perché questo è un personaggio che non gli piacciono i miei marcord mi sta bene ma questo rientra nei canoni del mio personaggio come Bergomi è il suo personaggio come Punch è il suo personaggio come Coglia è il suo personaggio a me mi sta bene non piacerti ma non mi sta bene che tu privatamente privatamente mi vieni ad insultare questo questo non lo accetto io oltretutto dopo avergli risposto educatamente ho mandato mandai anche la chat privata a Camellio e ci faccio le risate beh perché non ha messo il segno così fai la metta al segno per favore dai facciamo questa pace definitiva fai in giù ma ragazzi a parte ci siamo parlati poi la telefonata rimane rimane tra noi perché Franci lo sa poi mi ha mandato un bel messaggio io gli ho risposto però questo segui no ma glielo metto glielo metto se questo ma glielo puoi mettere in diretta non è questo il problema io al telefono oggi gli ho detto a Franci che secondo me se hai il numero io penso che se hai il numero mio privato conta più del segui su Instagram credo per me credo hai detto non rispondi mai Franci non è che non rispondo mai rispondo quando posso con tutto il rispetto l'ho spiegato però ti dico una cosa se era valutato io gli ho rispondenti no Franci perché Franci io sono sincero tu non mi conosci non puoi neanche vabbè dopo qua chiarirete in privato chiarirete in privato dai no no abbiamo sentito però io non puoi passare il messaggio di me faccio il futuro di tutti per me ragazzi Franci Franci ascoltami però che si è fatta una certa ragazzi non puoi dire non puoi dire certe cose se non lo sai perché mia madre faccio un esempio stamattina aveva scritto alle nove e mezzo io gli ho risposto alle una e mezza e mia madre no ma fa sempre così il tacchino poi quando no però per farti capire poi se ci vuoi credere ci credi Franci se non vuoi crederci non ci credi io parlo con tanta gente le varie hanno mandato un messaggio a me mia madre scrive solo a mio fratello poi se ci vuoi credere io ci credo io ci credo come tu oggi mi hai dato un insegnamento che sei stato un signore io ho vinto a noi salvità mi permesso però di darti un insegnamento magari a te è l'indica trasmissione che fa passare Faina come un tronista di uomini e donne Damiano a tratti aveva lo stesso imbarazzo di un vero tronista vabbè non lo so non è finita io continuerei nei prossimi giorni ma per me ragazzi per me è finita io ho chiarito con Francesco non è finita l'ho invitata a casa l'ho invitata a casa Vitale fatte la scopata Vitale no no per favore per favore Vitale ma 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 Faina non è che mi metti il follow anche a me Faina ma tu lo sai come finisce la vita la vita finisce col cagnolino la vita finisce con la tua squadra del cuore il cane sulle gambe il plaid e e gli amici di oggi saranno i nemici domani quindi fostitene siamo nati soli e crepiamo soli ma che cazzo te ne frega pensa a chiamare i soldi grande Fabio ciao tanti auguri Fabio tanto siamo così siamo accompagnati no scusami Fabio l'intelligenza che c'ha Fabio veramente in Italia eh ma sono grazie ma hai detto la radio bello allora per favore dobbiamo dobbiamo chiudere ragazzi io vorrei domani però è detto no no però scusa Andrea ragazzi ragazzi aiutiamo bellezza ho capito che l'Al Nasr vale più di me no no adesso che apprezziamo Francesco Vitale semplicemente e solamente domani 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 non ti ha chiamato ma abbiamo fatto una bella chiamata non so perché stasera ha ritirato fuori in fondo grazie a città ciccio tavano mica grande a parte grande ciccio tavano però aspetta andre grazie mille ciccio fan di mecenate potrei quasi se arriviamo a 150 grazie ciccio tavano dimmi dammi cosa volevi dire no però non ho capito perché sinceramente non ho capito mi sembrava che era tutto a posto oggi fra che è successo cioè non riesco a capire le parole devono corrispondere i fatti i fatti va bene va bene ti sto antipatico non mi metti il mi segui ma che cosa stai dicendo fra ma ti ho detto oggi abbiamo parlato ci no ma ragazzi ma sta scherzando è serio no credo abbia abbandonato credo abbia abbandonato davvero vabbè ragazzi un saluto a me ti spiagli grandissimo ragazzi l'abbiamo smascherato l'abbiamo smascherato l'abbiamo smascherato l'abbiamo smascherato umiltà umiltà ecco chi è veramente Grazie per la visione! Grazie a tutti!